Carissimo Mons. Giuseppe, rettore e custode di questo santuario dedicato al culto della Divina Misericordia e dell'Apostola della Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska. Cari fratelli e sorelle, amici tutti, ringrazio a Mons. Giuseppe che mi ha dato questa opportunità di celebrare questa Santa Messa ricordando ciascuno di voi, cominciando dal Santo Padre, dai suoi collaboratori, per questo grande dono che ci fece annunciando l'anno santo straordinario della Divina Misericordia sulla scia dell'insegnamento e della vita vissuta con la fede fortissima nel Dio Misericordioso di San Giovanni Paolo II. E anche oggi le letture ci ricordano dove dovrebbe essere fissato il nostro sguardo. Mosè fece mettere il serpente che doveva proteggere il popolo che lo ha seguito nel deserto. Il Signore ricorda questo evento a Nicodemo, a colui che credeva nel Gesù, ma aveva ancora un po' di timore per non essere magari incompreso o addirittura per non essere maltrattato. Allora venne di notte a parlare, a domandare al Signore che cosa devo fare per avere la vita eterna. E il Signore ci dice che bisogna avere la fede, perché così come Mosè viene innalzato il serpente nel deserto, così sarà innalzato il figlio dell'uomo. Gli parla praticamente del suo mistero salvifico, di quello che gli accadrà, della sua morte e della risurrezione. E poi gli spiega che tutto questo dovrà avvenire perché l'amore di Dio è molto, molto, ma molto, è assai più grande del peccato, della debolezza dell'uomo. E questo amore di Dio spinse per l'uomo, lo spinse per mandare il suo unico figlio, perché chiunque creda abbia la vita e l'abbia in abbondanza. E San Paolo, scrivendogli ai Fisini, gli dice Cari fratelli, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo, per le colpe ci ha fatto rivivere con Cristo, per grazia siete salvati. Tutti noi qua presenti abbiamo un compito molto importante, perché noi non siamo venuti qua a fare un comizio elettorale. Noi qua non siamo venuti né come membri né associati di un partito, di un movimento, ma siamo venuti come fratelli e sorelle che credono in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Credono che il Padre mandò questo suo figlio per farci rinascere, per salvarci, per redimerci. E al di fuori di Lui non c'è la salvezza. Questo l'hanno capito nel corso della storia della Chiesa i beati e santi. E noi siamo chiamati alla santità per mezzo del nostro battesimo. E noi, essendo chiamati alla santità, dobbiamo cercare di diventare sempre più la terra santa. Con quasi 600 sacerdoti e diaconi, prossimi alla ordinazione, siamo stati ricevuti in udienza dal Santo Padre il giovedì scorso, il quale ci parlò che dobbiamo educarci e farsi educare alla divina misericordia. E non dobbiamo scandalizzarci di nessun peccato, ma non nel senso che non ci deve importare di niente, di passare sopra. Ma qualora uno veramente piange e si sente pentito e chiede il perdono, diventa per un sacerdote confessore la terra santa. Perché ci ha ricordato, Santo Padre, chi ha fatto, chi è caduto, chi ha sbagliato, chi ha finito nel carcere, ci dovrebbe fargli frettere. Se io non sono andato in galera, se io non ho fatto questo o l'altro peccato, un tale o l'altro delitto, non è per merito mio, perché sono così bravo, così innocente, ma per la grazia di Dio. Si vede che il Signore ci ha dato una marcia in più, un quid in più, però a chi ha dato di più, chiede di più. E noi attingiamo dalla Sua parola, dal pane eucaristico, questa forza per andare avanti, per essere sempre di più nel nostro quotidiano, gli Apostoli della Divina Misericordia. E ogni volta, quindi, che recitiamo il Padre nostro, ricordiamocelo sempre, e rimetterci i nostri peccati, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori. chi ama Gesù Misericordioso, chi ha incontrato il Signore nella sua vita, chi ha sperimentato la grandezza della sua misericordia, del suo perdono, non può non essere misericordioso, non può non essere figlio della luce, non può non essere felice nel fare le opere di carità, di misericordia, le opere di carità, sia verso l'anima che verso il corpo. Siamo, cari fratelli e sorelle, sulla stessa barca. ne ho condiviso un pensiero con Monsignor Giuseppe prima dell'Eucaristia, che ogni fedele, che si accosta al sacramento della penitenza, che chiede il perdono, che bussa la misericordia, ogni fedele riconciliato per il nostro ministero, che talvolta possiamo essere peggio degli altri, ma il Signore ci ha fatto questa chiamata, si è fidato e ci ha chiesto di essere strumenti della sua misericordia. Ogni fedele è veramente una terra sacra, è una gioia, è un senso del nostro impegno ancora di più. E concludo per non annoiarvi. Pregate perché i vostri sacerdoti, perché noi in quanto sacerdoti siamo vere guide, veri pastori, padri misericordiosi e noi altrettanto assicuriamo la nostra preghiera per ciascuno di voi, perché non venga mai la fiducia e la fede nella divina misericordia più grande di ogni nostro peccato. Amen.